Creare un grande campus formativo provinciale per valorizzare le scuole e garantire un sistema efficiente che sappia puntare sulle specificità turistiche montana del territorio. È la proposta del presidente della provincia Arturo Lincio che ha scritto ai sindaci di Verbagna, Omenia e Domodossola per invitarli a discuterne. Un'idea di largo respiro da realizzare nel corso degli anni ma con la massima condivisione istituzionale e politica. Prosegue Lincio credo fermamente che nel futuro dei giovani si debba creare e investire ancor più che in passato perché grazie insieme a loro ne potranno trarre beneficio l'intera comunità e il territorio. Il presidente propone di ragionare su economie di scala e riorganizzazione dei servizi come mense, laboratori e palestre per portare a un miglioramento della qualità dell'offerta formativa ma considerando anche gli impatti sulla viabilità e sui centri urbani del VCO. Lincio si rifà l'idea che l'amministrazione comunale verbanese aveva lanciato qualche mese fa ovvero di riorganizzare la distribuzione e la logistica delle scuole superiori. La proposta dice il presidente quella di verificare la fattibilità tecnica economica e funzionale di accorpare anche il patrimonio edilizio scolastico di competenza provinciale che interessa la città di Verbagna al fine di poter ipotizzare un campus formativo innovativo elevando non solo la qualità della struttura ma anche dei laboratori e auspicando l'offerta formativa del territorio. Un obiettivo che mira ad aumentare l'attrattività della nostra area sia dal punto di vista formativo che imprenditoriale. Un modello da proporre non solo a Verbagna ma anche nel Cusio e nell'Ossola. Ritengo prioritario aggiunge che così come per tutti gli edifici di proprietà della provincia, Ivi compresa l'edilizia scolastica, contemporaneamente a una verifica tecnica si debba condurre un'analisi economico prospettica sui bilanci dei rispettivi enti affinché sulla base dei piani di manutenzione delle necessità impellenti di intervento e di efficientamento energetico si possano individuare i risparmi dei costi di gestione derivanti dalle nuove economie di scala che insieme ai dirigenti all'ufficio scolastico provinciale dobbiamo essere in grado di mettere in atto. Nel frattempo fa sapere di aver contattato le università piemontesi e avviato accordi di collaborazione per dare maggiore forza al ruolo provinciale grazie alla specificità montana per sperimentare progetti e azioni politiche di interesse del quadrante.